E' il leader della classifica in maglia rosa dalla Gran Bretagna, vince dello scopo per Simon Yeats! Allora signori, siamo arrivati al countdown, lo facciamo tutti insieme, tutti insieme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, una via! Allora signori, siamo arrivati al secondo, siamo arrivati al secondo, siamo arrivati al secondo, Allora signori, siamo arrivati al secondo, siamo arrivati al secondo, siamo arrivati al secondo, Allora signori, 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 signori Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.